Cosa facciamo? Siamo tra i dinosauri giocattolo Allora, secondo me bisogna salire su quel dinosauro lì Va bene, allora salgo sopra e ti dico Forse devo abbassarmi per farti salire? Oppure devi prendere degli ossidi Vedete che ci sono degli ossidi? Ma non ha senso Non lo so, faccio un po' di... Sì, no, ma c'è nel senso, ha senso, ma non riesco a capire come Ah, ok, sì, ha senso, ha senso, ha molto senso invece Devi trovare un punto di partenza, tanto per dirne una Perché poi io devo aiutarti a... Poi si potrebbe essere... Qua? Dove? Qua? Potrebbe essere quello il punto di partenza, Lu Dove sono io? Fuori Davanti a me, lo vedi lì? A sinistra, esatto Sali su? Potrebbe essere quello Sì Prova, aspetta un po', aspetta Aspetta un po', vieni, vieni qui Torni un po' indietro Riesco a prendertelo? No Ah, che carino Ok, no, vai, vai Scusami No, no, praticamente devi passare Adesso devi toglierlo Vai E ora gira Ma pensate che... Che genialata Allora Posso? Vai Ehm... Sì Vai Devo andare dove? Fermo Vai Però come posso? Ah, giusto Ehm, no, allora a sto punto, aspetta Eh, picchia il coso Che io ti tengo il coso Fermo Ok, perfetto Sali su Ah... Devi scendere? Già Ok, vai Forse è troppo Perfetto Uh, scusa Tra poco ti facevo cadere Eh, però Aspetta, no, no, tranquillo Sì, sì Adesso te lo porto lì No, c'è un blocco Visto? Eh, sì Ehm... Ok, no, aspetta Vieni giù Rompilo Cioè Ripingalo Ok Vieni qui Sali su Sali su Vai di là Ok Fermo lì Vai avanti Qui Ehm... 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 Già Potrebbe essere... Eh no, aspetta Aspetta, forse c'è un modo per poterlo fare Non... 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 Non farlo ancora Non farlo ancora Vai Eh, ma ora non ha senso Hai girato? Sì, giusto Sì, ma ora come ti tiro su? Ah... Dunque, aspetta, eh Ehm... Che c'è picchio se si girano tutte e due, giusto? E se... Dobbè... Ah... Mi è venuto in mente una cosa Rifalla un po'? Ok... Fermo, fermo così, eh Mi è venuto tenere questo qua No, no, aspetta, vieni tenere questo qua No, no Togli Spogliti Allora... Vieni a tenere questo qua sotto Vieni Ah... Giusto Avrebbe... Ha molto più senso Ok, grande Zerosini Hai visto che gioco è fantastico, Gabri? Questi sono giochi intelligenti E non monotoni soprattutto E ora? Chi è quello che è? Ah... Aspetta che ci penso io qua adesso Credo Sì, devi salire su Salta Aspetta, 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 aspetta Fa il doppio salto Torna un po' indietro e fa il doppio salto Non lo fa? Questo è il mio doppio salto È perché se lo fa... Perché se io lascio così Prova a salire ma... Non credo che sali Oh... Ora ci siamo Che? Eh... Stai fermo lì No Non posso... Non posso... Non sta fermo Aspetta... Aspetta... Allora un'altra... Qualche osso, qualcosa Però non... Vedi che... Non c'è modo di bloccaggio, cazzo Vedi? È strano... Ah... Ok, sali Ho capito No... Ok... No, no, giusto Tieni... Rimani lì Rimani lì Ok, vieni giù Mollati C'è un modo... C'è un modo... Deve esserci un modo... Non vai... Ti spingo altrove, vero? Aspetta... No, no... Ho capito... Fermo un po', fermo, fermo, fermo Ho capito... Ho capito... Molla? Buttati di là Buttati di là Bravissimo Adesso devi fare... Hop, 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 hop Devi scendere giù... Uuuu... Al centro... Saltando... Uuuu... Grande Vediamo se riesco... No... Troppo presto... Devi rimanere un po' attaccato lì per un po' e poi lanciarti Troppo presto Ci sono le mantite però lì in cima Eh sì, ma tu devi riuscire ad arrivare a... No... Io non ho fatto tutto questo Cos'è questo ruolo? Aspetta... Ah... Sono troppo basso Vieni più basso? È più basso di così, non ci va Aiaaa... Allora, fai una cosa, aspetta, aspetta Molla... Esatto... No... Fa il doppio salto, non so per quale motivo Una volta sola... Allora, devi fare il doppio salto... Esatto... Fermo Doppio salto e scatto Quando sei in cima Devi riuscire perché... Troppo... Troppo basso Eh sì, devi riuscire ad arrivare... Esatto, vai Aspetta... Doppio salto e scatto in avanti Bravissimo Cosa sto muovendo io qua? Ok... Va bene Alla prossima, Gabri Stai bene E questo sono io quando... Mangio troppo Mamma mia, guarda lì che robe Vai, vai Vai, vai Vai che ormai ci siamo Che cazzo... No, vabbè, dobbiamo anche pilotare una nave? Dobbiamo fare i cricetti Fantastico Quindi tu sarai la mia sinistra e io sarò la tua destra E quello... Chi spara il cracone? È un... è un kraken? Una piova gigante Ah, R2 per sparare Anche tu, no? Sì, ma dove dobbiamo andare, scusami A destra Sì Aspetta, avvicinati Torrette? Torrette? Opla Gira 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 Sì Cazzo, non è facile, eh? Devi anche andare all'indietro, eh? Ah Fermati Anche qua, questo? Sì Poi, facciamolo poi Un dubbio Oh, occhio! Oh, occhio! No, vabbè È troppo figo Wow Mira, mira i razzetti Un po' più avanti Ehm Mamma mia, ma quanto danno stiamo facendo? Ok, gira Gira, gira Ok Io penso che dovremmo... Collaborare per distruggere il kraken insieme, sai? Tipo battag... Beh, non mi piace i loro canoni Anche ne ho Attacca Cuocere, non ti scegliamo i nostri poli Dove l'altro? E ora ci giriamo Vai, gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, gira Gira, gira Dubbio È il beneficio Meglio fare fuoco Non vorrei mai che escovissero Aspetta pinguini assassini no no sembra di no non li facciamo ne caldo e ne freddo io per girare cos'è che devo fare niente devi semplicemente girare l'analogico a sinistra e destra avanti e indietro per accelerare frenare non è che ci schiaccia di frattito ma come la evitiamo non mi cammina più veloce a me veloce come te non mi cammina stai girando troppo in là io non riuscivo a capire dove dovessi andare quello è il casino puntiamola ma se la puntiamo ci parliamo dici proviamo dai proviamo come come dici che più veloce a me è più veloce ma io mi sembra di anche andiamo allo stesso ma la stessa velocità che poi adesso gira anche tu stai girando allora prova a girare solo no proviamo a passare a destra o a sinistra penso che sia uguale e tanto ci fa andare sempre qua vai accelerare hai ragione quando hai ragione hai ragione no 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 giro 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 non ci siamo riusciti in tempo ecco è molto soffice e carino io ora Eh no Dobbiamo girarci Dobbiamo riuscire a colpire i suoi tentacoli Quando ci rompe le scatole A sinistra Ah Forse abbiamo fatto troppo danno Ecco ci mancava solo chi ci portava giù Porca miseria Sesta storia Sul serio? Occhio dietro dietro di noi Fermo Eh no Non ce la facciamo Ci abbiamo troppa gente Mamma mia Mamma mia Aspetta un po' che ce l'abbiamo Scemo Uh levato in tempo quello scemo va No Ok Now I'm starting to build things too Eh no Un secondo Ti sta colpendo Sto qua Non ci abbiamo mancato dieci volte L'abbiamo mancato No no perché stiamo tirando uno contro l'altro Come tirando uno contro l'altro cioè? Eh sì perché tu volevi andare a destra io voglio andare a sinistra Ah vabbè ci ci ha bloccato a metà dai Quindi destra Aspetta leviamo questi due va Picca 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 Togliamo due minuti a passi due Togliamo quei piccolini Lu No girati girati ti prego Dammi un verso Destra 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 Tutta destra Tutta destra Niente Sinistra Uh Dobbiamo beccare subito la sua faccia Eh ma dobbiamo Dobbiamo riuscire Aspetta aspetta Spara 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 Tutta Destra Aspetta il tentacolo Sinistra Adesso con il piavone Lui lui Allora lui spara lui Subito subito Uh Ok Ok Tu voglio andare a destra Io voglio andare a sinistra Allora Tu voglio andare a destra Tu voglio andare a destra Grazie.